Roger, november 40, Sierra Victor. Roger, 40, Sierra Victor, confermo, i miei rapporti li ho passati, si è il nome dell'operatore Jacopo dalla provincia di Lucca, quest'è L? No, no, sto facendo contest, sto facendo contest, ma in questo contest qui non si passa a progressivo, quindi è un po' diverso degli altri. Sì, la propagazione naturalmente c'è, perché se no non riusciremo con questi segnali qua, specialmente con, anche io ho un'antenna abbastanza corta oggi, perché sono venuto su in forma abbastanza leggera, ma c'è sicuramente una buonissima propagazione via mare, che per esempio non c'era due weekend fa, quando sono venuto la scorsa volta, quando c'era il contest internazionale. Ti saluto e continuo le mie chiamate, gli S010 november virtual portatile e K5MB.